Pensavi che l'aceto di mele andasse bene solo per condire l'insalata? Sbagliato! L'aceto di mele è noto per le sue proprietà curative in tutto il mondo. L'aceto di mele è un alimento straordinario per fare detox. Il principio base è che l'aceto di mele contiene la madre. Cosa vuol dire la madre? Di chi è figlio l'aceto? La madre è la sostanza capace di generare altro aceto. La madre è ricca di batteri buoni, enzimi vitali, vitamine e minerali, sostanze che rendono l'aceto di mele utile per detox, dieta e depurazione. Perché funziona l'aceto di mele? Procura benefici interni ed esterni, fornisce enzimi vitali, aumenta i livelli di potassio, equilibria il pH del corpo, sostiene l'immunità, migliora la digestione e attiva il metabolismo, riduce la fame nervosa, aiuta a eliminare le tossine, favorisce il detox totale. Ma come dobbiamo usarlo per avere tutti questi benefici? Ecco la ricetta migliore per fare detox. Ingredienti. Due cucchiai di aceto di mele, due cucchiai di sciroppo d'acero, il succo di mezzo limone, un pizzico di peperoncino. Metti tutti gli ingredienti in una bottiglietta da mezzo litro di acqua naturale e bevi ogni giorno un bicchiere per tre volte al giorno per un mese. Sì, ma quando? Al mattino come prima cosa, a metà mattina, a metà pomeriggio. E cosa dovrei aspettarmi? Ce lo dice la ricerca. Alcuni studi svolti in Giappone hanno dimostrato che questa bevanda aiuta a perdere peso e massa grassa se assunta con regolarità. Altri studi svolti in America hanno dimostrato che abbassa il colesterolo perché riduce l'assorbimento dei grassi. Durante questa fase di detox, grazie ai benefici dell'aceto di mele, ti sarà più facile eliminare anche gli zuccheri e i grassi, come salsa e fritti. Mangia a volontà verdure, proteine magre e frutta fresca. Bevi molta acqua e già dopo un mese sarai più disintossicato e sgonfio, grazie a questa bevanda detox 100% naturale. Leggi in descrizione i link ai miei libri ed ebook su ricette detox e dimagrimento. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!